ciao a tutti come sappiamo quando gesù nacque a betlemme per volere di dio vi fu un breve periodo di pace su tutta la terra gesù ha rivelato a diversi mistici che sempre per volontà di dio accadrà la stessa cosa anche dopo l'avvertimento ossia gesù ha preannunciato che vi sarà un breve periodo di pace su tutta la terra per quanto è di mia conoscenza gesù ha fatto intendere che si tratterà di qualche mese di pace non di molti mesi ciò sarà concesso affinché ogni abitante della terra abbia modo di riflettere rispettere profondamente se cambiare rotta o meno ossia se decidersi a rispettare gli eterni comandamenti di dio o meno dopodiché avranno inizio i flagelli giovannei che per chi non ne fosse a conoscenza coincidono con i segreti di meggiugorie ossia si tratta dei medesimi flagelli che in estrema sintesi consistono in cataclismi vari e radiale sia lodato e ringraziato l'onnipotente per questo ulteriore atto di misericordia